Gayskelly Gayskelly Spaghetti Scusate, c'è una spiegazione Sì, io volevo, io sono un attore e queste sono le prime mascotte gay del mondo ci siamo in YouTube pure Ah, le mascotte gay del mondo Gayskelly Spaghetti Spaghetti, ecco C'è un sito internet dove Sì, sì Punto com Gayskelly Gayskelly Che fa un po' il verso a Gayskelly Esattamente E spaghetti Voi venite dalle Puglie? No, io sono spagnolo Ah, spagnolo Io napoletano Napoletano Siamo i creatori di questi più pazzi E ti voleva regalare uno Nome, vogliamo dire il nome? Si può dire? Il mio nome? Sì, Enrique del Pozzo Enrique del Pozzo Gayskelly.com L'andiamo subito a vedere Poi quando rito, quando finisce Ok, grazie Lo posso lasciare questo solamente Lo vedi qui Guarda, se me lo metti nella... Ecco, questo è per me Ti lascio anche per il riferimento del sito Grazie Perché volevo fare una campagna con tutti Perfetto Grazie Un saluto Buon divertimento Ciao Grazie Mettiamo Yeah Ok